Una serata da incubo per una coppia di anziani di Corigliano Rossano, aggrediti in casa da un 23enne senegalese. Il marito era appena uscito per recarsi dal medico, pochi minuti dopo qualcuno ha bussato alla porta. La donna credendo fosse il marito aperto, ma sull'uscio c'era un giovane che si è introdotto nell'abitazione denudandosi completamente e pretendendo di avere un rapporto sessuale. La donna si è difesa e così l'aggressore l'ha brutalmente picchiata. Nel frattempo il marito è rientrato, vedendo la scena ha cercato di bloccare l'uomo che si era introdotto in casa, ma nella colluttazione ha avuto la peggio, il 23enne l'ha scaraventato dalle scale. Intanto la donna è riuscita a barricarsi in una stanza. L'allarme è stato dato dalla figlia della coppia che vive a Roma, ha telefonato al padre che però non parlava al telefono. Si sentivano tuttavia urla disperata dall'altra parte della cornetta. La donna ha così chiamato il 113, l'operatore ha subito capito la gravità della situazione e sul posto è giunta una volante del commissariato di Corigliano Rossano. Gli agenti, arrivati davanti alla villetta appena fuori dal centro abitato, hanno trovato all'esterno l'anziano che in evidente stato di shock e con visibili tracce di sangue sul corpo, ha detto che nella sua abitazione c'era un giovane che stava picchiando la moglie nel tentativo di violentarla. Una volta entrati i poliziotti hanno trovato il 23enne nudo che cercava di entrare nella stanza in cui si era rinchiusa la vittima. Alla vista degli agenti ha cercato di fuggire ma è stato bloccato. Soccorsi dal 118, i due anziani sono stati ricoverati in ospedale. La 76enne ha il volto completamente tumefatto. Un agente, per bloccare l'uomo, si è procurato una contusione alla spalla. Il 23enne adesso su disposizione della procura di Castrovilla è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.